Ciao a tutti i feffalini e i banani da Isorita Paz, ciao 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 oggi, ad un attimino ragazzi. Un caffè macchiato, uno normale, due bottiglie d'acqua di cui una naturale e una cazzata. Due caffè di cui uno macchiato caldo? Aspetta, aspetta, aspetta. E due bottiglie d'acqua di cui uno? Allora, te lo dico piano, sì sì tranquillo, non è prima. Allora, un'acqua gasata e un'acqua naturale, fredde. Un caffè macchiato, caldo e un caffè normale. Caldo. Sono rimasto all'acqua frizzante. Ok, acqua frizzante, acqua naturale? Sì. Due caffè di cui uno macchiato caldo. Ok. Posso? E se fosse, precisamente nel bicchiere un po' di ghiaccio. Ok. Va bene. Grazie. Ecco ragazzi, abbiamo fatto l'ordinazione. Quante volte abbiamo ripetuto? Va bene, ma ragazzi, è proprio all'iniziatore proprio da oggi questo ragazzo qua. Possiamo anche capire. E niente, sono allora ragazzi, stavo facendo questo video qui, un vlog, tanto che siamo in giro. Vi faccio vedere dove sono, come solito, a Elvezia. Ecco, scusate la mia mano. E non sapevo neanche che stavo facendo il video, povero ragazzo. Vabbè, e niente, aspettiamo i due caffè di cui uno macchiato caldo. Non dicevo a te, dicevo a loro che magari me lo commentavano, l'hai detto tu. Poi due, cosa vi ho preso? Oltre al caffè, due. Scrivetelo nei commenti poi. No, vabbè. Allora, ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Aspettate un'altra che sta con la batteria qui. Venite con me. Intanto ci metto due minuti da qui e qua, lì, ci vuole poco. Facciamo questa piccola passeggiata, guardate, gna 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 qua. Ah, ehm. Avete visto? Un po' di gna gna, vi faccio vedere, ragazzi. E un secondo solo che attraverso la strada che sarebbe sempre finta, se è stato due minuti. Allora, sono uscita adesso dal bar. Ora vi faccio vedere qua, in questa zona qui. Vabbè, non vi faccio vedere di preciso. Comunque. Qui ci viene Palli, sei qua? Troppo vicino all'Elbezia. Se la fatti ce la dà sotto banco. Vabbè, non ho detto dove abiti, eh. Qua c'è il giro. Non ho voluto fare proprio la spiona spiona. Ho solo indicato un po'. Comunque, il caffè sono arrivato, la bottiglia d'acqua è arrivata. Scusa, posso avere un bicchiere con il ghiaccio? Ah, me l'ha portato il bicchiere con il ghiaccio. Ah, non si vedeva. Un bicchiere con il ghiaccio. Ok, ragazzi. Mi ha detto che è qua il bicchiere con il ghiaccio, ma... Vabbè, dov'è il ghiaccio? C'è un bicchiere pieno di ghiaccio. Poi se è frizzante via tu, la naturale è mia. Sono a temperatura ambiente. Non ce l'hanno fresche? No, le ho appena messe. E il ghiaccio non ce n'è? Metti il mio. Ah, te l'hanno messo? Me l'hanno messo anche a me. Ma tu lo vuoi? Ok, provate. Ecco, adesso ce l'ho almeno. Ho un po' di ghiaccio, ragazzi, almeno ce l'ho, dai. Adesso c'è. Ma io sono una criticona, ragazzi, no? Non sono proprio una criticona. L'acqua non è tanto fresca. È fresca, ma è molto fresca. Ok. Beviamo l'interd'acqua. Comunque, tra poco, raga, mi arriva la mia piccola polettina. E al mattino ci facciamo la colazione qua. Al massimo mi dice, mami, scendi, facciamo colazione. Tanto anch'io sto vicina da lei. Lei però è più vicina qui a Lecce, eh. Buon caffè a tutti. Le mie sigarette, stavo prendendo quelle di mio figlio, le sigarette. E, boh, 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 questo stavo volevo dire. Ah, comunque, sono andata al mare, due giorni, due giorni, sono andata al mare. L'altro, ieri, sono tornata a casa, ma non era molto così. Adesso sono rossa, come un peperone. Si vede che sono rossa? Ho cambiato colore? No, no, vabbè, ragazzi, guardate. Sono bruciata. Infatti mi sto tenendo, sto cercando di tenere qualcosa di leggero. Aspettate. Non mi faccio vedere, volevo farvi vedere le ciappette bianche. Non si può. No, vabbè. Non mi faccio vedere niente. Ho le ciappette bianche e le cilice bianche. A Cerve sono. Ciao. Allora, faccio mettere gli occhiali che vi devo vedere una cosa. Ah, ok. Tanto, finiamo di bere il caffè. Caffè per tutti? L'ho preso tutto in bocca. Il ca, nero, lungo. E adesso lo prendo ancora. No, aspetta, ho sbagliato, ragazzi. L'ho preso tutto in bocca. Mmm, le l'ho mandato giù. Mmm, il ca, nero, lungo. E adesso lo prendo ancora. Il caffè, nero, lungo. Comunque, ragazzi, mi viene folli. Non vi ho detto la data. Vabbè, faremo qualche video su TikTok. Lei farà tante foto sicuramente con i follower di qua. E farà qualche video sicuramente su YouTube. Sicuro, sicuro, sicuro. Perciò la lascio anche libera. Poi andremo fuori a divertirci. Nel senso, lei quando viene qua ha detto, mica sto a casa. E andiamo a manca a papare fuori, oltre ad andare al mare. Non so che bello, raga. Ah, Folli è il suo miglior amico Giovanni, eh. E se tutto va bene, riesce a venire anche Gabriele Ganini. Ragazzi, iscrivetevi anche su Gabriele Ganini, che io e lui dobbiamo fare un video tipo serie, serie, serie. Perciò, ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi. Fatemi arrivare a mille su questo canale, così YouTube inizia a monetizzarmi. E poi, iscrivetevi anche lui. Cos'è, almeno io e lui dobbiamo fare queste serie qua. Faremo vedere delle serie. Perciò, ragazzi, iscrivetevi. Fatemi arrivare subito a mille, dai. Ah, ragazzi, io stavo fiumendo la sigaretta e non sono incerata così di solito. Su TikTok non si può far vedere. Su YouTube, fortunatamente, sei un po' più vivo. Eh? No, sì, sono su YouTube. E sono più, sono fortunatamente un po' più libera. Sto facendo la live su YouTube? No, non sto facendo la live. Sto facendo il video su YouTube adesso. Poi lo pubblico. E comunque stavo dicendo, mi sono chissato, non si può dire, non si può, e allora faccio sempre così. Adesso stavo facendo così. Tanto non si vedeva che non fumavo, si vedeva lo stesso. Almeno di là non si vede. No, vabbè. Ma questa è da presa in giro, è proprio il vizio. Eh, ma forse è meglio che io ho questo video, perché se vado su TikTok a fare le live e che fumo così mi bannano. Allora preferisco avere questo vizio qua. Va bene ragazzi, allora il caffè l'ho bevuto. L'acqua mo' è bella fresca, me la ribevo. Fate sapere nei commenti se vi piace il video così, tipo vlog. Da cavolo. Penso che non vi piaccia, non lo so. Fatemi sapere intanto se vi piace. Se vi piace le faccio. Eh, niente, che vi devo dire? Boh, vado avanti a fumarmi la sigaretta. Ah, se mi volete dire qualcosa, scrivetelo nei commenti e poi io vi risponderò. Ok? Ciao ragazzi, ciao, buona linea di far pari già esaurita pazzo, ciao, 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 ciao. Ai, c'è tutto male. Col cuoriccione, ma certo che sì, ciao, ciao.